Prima uscito del liceo classico, della classe, come è andata questa prima prova? Credo bene, sono molto soddisfatto di quello che sono riuscito a produrre, sia a livello di contenuti, sia a livello di idee. Mi aspettavo un tema simile a livello di attualità, perché la mafia è sempre un argomento attuale, è sempre un argomento che è importante trattare. Secondo lei i temi usciti sono stati fattibili? Sì, erano tutti fattibili. Domani in seconda prova? Sì, domani in seconda prova, decisamente più impegnativa, però dall'essimulato, visto che è una cosa fattibile, penso di poterla riuscire a risolvere senza problemi. È stata stancante, ho visto le sette ore di prova, ma comunque è andata bene, le tracce erano molto interessanti e alla fine scegliere non è stato facile anche quello. Che cosa hai scelto? Ho scelto la tipologia C riguardo lo sport, c'era un brano su Bartali. Preoccupato anche per l'orale? Mi preoccupa sì, però penso che comunque anche gli stessi professori ci verranno un po' incontro, visto le nuove modalità. È andata bene. È stato un po' difficile scegliere tra tutte le tracce. Che tracce hai scelto? Ho scelto la B2, che trattava della bomba atomica e poi delle innovazioni tecnologiche di oggi. Per quanto riguarda invece la prova orale? Prova orale, ci hanno detto oggi che inizierà mercoledì, mi sembra. Mi preoccupa questa modalità, chi sarà una busta in cui sceglierete un argomento? Un po' sì, perché con la modalità degli scorsi anni ti sapevi più o meno preparare meglio. Ho scelto la traccia riguardo la mafia e dalla chiesa. La prova sembra andata bene, spero. Penso di averla fatta bene. Domani è la seconda, le preoccupa qualcosa? Domani è la seconda, economia potrebbe essere preoccupante. Noi abbiamo la doppia materia, economia inglese. In inglese mi sento abbastanza preparato, economia adesso ripasseremo. È stata abbastanza tosta, però ci sono riusciti bene. L'argomento scelto? Tipologia 2, Leonardo Sciascia. Le tracce erano molto difficili, infatti ho avuto molta difficoltà nello scegliere, però me la sono cavata. La prima? Quella su Ungaretti. E l'hai preparata su questo argomento? Sinceramente non tantissimo, però le altre erano abbastanza complicate. Cosa vi preoccupa di più? Principalmente pure dell'orale. All'orale ci saranno queste buste, quindi uno è sempre un po' impreparato su quello che gli può venire fuori. Per me è stata dura, perché preferisco le materie scientifiche, però in realtà abbastanza fattibili quasi tutte le tracce. Che cosa ha scelto? Io ho scelto la tipologia B1, quindi l'analisi del testo e poi la produzione scritta. Domani è la seconda prova? Domani è la seconda prova, siamo pronti per questo ibrido di matematica e fisica. Personalmente credo che sia stata andata abbastanza bene, avrei preferito riuscire a scrivere qualcosa di più, ma penso di essermi espresso in modo abbastanza sintetico. Io ho scelto il tema sull'aridità che ci ha lasciato il 900. Qual è il tema scelto? E la traccia B2. Domani è la seconda prova, c'è qualcosa che le preoccupa di più? In realtà entrambe le materie, matematica e fisica, se devo essere sincera. Però dai, ho ripassato in questi giorni, abbiamo fatto dei gruppi di studio, quindi in teoria dovrebbe andare bene, dai, speriamo.